La funzione EXP ti restituisce il numero di nepero che sei abituato a vedere scritto sulla calcolatrice con la lettera E. Inserisco la funzione e semplicemente qua dovrò mettere l'esponente a cui voglio elevare questo numero. Se metto dunque l'1 mi restituirà proprio il numero di nepero che è all'incirca 2,72. Io posso usare questa funzione quando voglio scrivere in Excel il numero di nepero all'interno di una formula o di una funzione matematica.